Si è svolta dal 24 a 26 maggio a Torino l'ottava edizione di Energetica, mostra a convegno internazionale dedicata all'energia sostenibile, alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica. Tra i numerosi appuntamenti, la conferenza Bioedilizia Italia 2012, organizzata da Environment Park, Parco Scientifico e Tecnologico di Torino, nato per promuovere iniziative di innovazione tecnologica e sostenibilità. L'evento, strutturato in sessioni parallele, è stata l'occasione per promuovere i sistemi di rating con il workshop dal titolo I sistemi di certificazione della sostenibilità in Italia. Tra i relatori, Massimiliano Fadin, segretario del chapter Piemonte di GBC Italia, che ha presentato il sistema di certificazione degli edifici residenziali GBC Home, promosso da Green Building Council Italia. Il nostro è un protocollo di matrice internazionale, quindi chiaramente è già abituato a dialogare con le varie normative a livello comunitario. Quello che viene fatto è sostanzialmente poi riposizionare le specifiche prestazionali dell'involcro sulle normative di riferimento all'interno della nostra nazione. Io oggi ho presentato il GBC Home, che è il nuovo protocollo per il residenziale, che chiaramente recepisce e fa proprie le normative dal punto di vista, per esempio, del risparmio energetico dell'edificio e chiaramente le mette in modo conforme a quanto richiesto dalle normative di riferimento.